No ad ogni tipo di droga, ha ribadito Papa Francesco nel discorso ai partecipanti alla 31esima conferenza internazionale di monitoraggio sull'uso delle droghe. La legalizzazione delle cosiddette droghe leggere e anche parziali, oltre ad essere quantomeno discutibile sul piano legislativo, ha detto non produce gli effetti che si sono prefissi. Le droghe sostitutive poi non sono una terapia sufficiente, ma un modo velato di arrendersi al fenomeno. Per dire do ad ogni tipo di droga bisogna dire sì alla vita, sì all'amore, sì agli altri, sì all'educazione, sì al lavoro, sì a più fonti di lavoro. Se si realizzano questi sì, ha detto il Papa, non c'è posto per la droga, per l'abuso di alcol, per le altre dipendenze. E la Chiesa, attraverso l'opera di tante sue strutture, lavora affinché le persone possano riscoprire la loro dignità e facciano fruttare quei talenti personali che la droga aveva sepolto. Grazie a tutti.